FMGru è un'azienda esperta nella costruzione di group per il settore di linea da quasi 60 anni. Soddisfiamo le esigenze di nostri clienti in tutto il mondo attraverso l'innovazione e un livello di specializzazione dell'eccellenza. Sono gli aspetti mecatronici e digitali che distinguono le nostre group sia per quanto riguarda prestazioni e sicurezza ma anche grazie a un livello di connettività che ci permette di gestire al meglio i servizi e processi di post vendita. La collaborazione con Schneider Electric ha iniziato circa 20 anni fa e oggi le soluzioni EcoStruxure Machine di Schneider sono integrati in tutte le nostre linee di prodotti dalle piccole gru automontanti alle gru a torre più grandi. Per controllare le gru utilizziamo componenti connessi di Schneider Electric come Harmony HMI, variatore di velocità Altivar e PLC Modicol. Con EcoStruxure Machine Expert possiamo eseguire su un'unica piattaforma software, sviluppo, configurazione e commissioning. Con EcoStruxure Machine Advisor ad esempio possiamo monitorare da remoto lo stato, i parametri e i consumi delle nostre gru facilitandone il funzionamento e la manutenzione. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo incrementato le vendite di gru d'Italia di oltre il 30% e puntiamo nel giro di pochi anni a monitorare tramite il Machine Advisor oltre il 40% delle gru a rotazione alta che verranno prodotte. Il nostro vantaggio competitivo? La differenzazione tecnologica resa possibile dalle soluzioni digitali di Schneider Electric che ci aiutano ogni giorno a raggiungere nuovi traguardi per lo sviluppo delle gru e la soddisfazione dei nostri clienti.